Oggi vi parlo del Blue Router. Che cos'è il Blue Router? Beh, è questo oggetto che abbiamo disseminato in praticamente quasi tutte le BTS della nostra rete, che sono oltre i 2000, e serve per gestire il traffico. Quindi è quella macchina che è in mezzo tra la rete radio di accesso, che quindi va dalla BTS fino a casa vostra, e la rete radio di trasporto che va dalla BTS fino al centro della nostra rete. E sfrutto una delle peculiarità della rete EOLO, che è quella di essere una rete fortemente magliata. Cosa vuol dire? Che i nostri ripetitori, siccome sono alti sulle montagne, o comunque su tralicci in dominio di quota, sono collegati come se fosse una ragnatela con tanti altri ripetitori. E quindi esistono più strade per portare il traffico internet in giro per la rete. Questa macchina che abbiamo progettato noi, sia a livello hardware, sia a livello software, ha al suo interno un protocollo che fa sì di utilizzare tutti questi collegamenti, tutta questa ragnatela, in modo che il traffico viene sparpagliato su tutti i vari link, collegamenti di backcalling, eccetera, in modo da sfruttare al 100% la capacità di banda e la rete EOLO. Ed è un progetto che continuiamo a migliorare e implementare per far sì che riesca a sfruttare al massimo le peculiarità della rete EOLO. Grazie e alla prossima puntata.